E' un'acquisizione straordinaria per il patrimonio culturale della città, quella realizzata dal comune di Montecatini Terme, grazie alla generosa donazione dell'archivio della famiglia Dini, famiglia di antiquari di Montecatini, con l'autore della donazione Piero, che innamoratosi di un libro sui macchiaioli, decise nel 1959 di lasciare l'abituale occupazione. Per dedicarsi allo studio della pittura e il suo amore per i libri, in tanti anni, ha portato a creare una collezione davvero incredibile, adesso donata alla comunità. Penso senza tema di essere smentito che insieme al MOCA questa resta la più grande operazione culturale fatta dall'amministrazione Bellandi in questi anni, perché questo è un archivio, l'archivio di Piero e Delianadini di livello internazionale, è un grande gesto d'amore, perché questo che hanno donato alla città si tratta di 1840 volumi, e quindi è un archivio che sarebbe potuto tranquillamente finire a Roma, a Parigi e a New York, l'hanno donata alla città di Montecatini, che è il luogo di nascita, è un gesto d'amore incredibile che va a arricchire il patrimonio culturale della città, la nostra biblioteca e presto, quando sarà in rete, sarà visibile da tutto il mondo e quindi chiunque si vorrà interessare alla pittura dell'Ottocento, a Marchioli, ma anche a una bellissima sezione sulla lirica, con opere incredibili raccolte dalla famiglia Dini in questi anni, si rivolgerà a Montecatini e verrà qui a studiare, quindi la cosa che resterà nel tempo, sono le cose belle, che sono poi il compito di un'amministrazione, è creare qualcosa che poi resta alla città e alle future generazioni. Lui tutta la vita è stato come innamorato di possedere libri sull'argomento naturalmente che amava approfondire, ma anche sul clima culturale del secondo Ottocento italiano in cui i macchiaioli hanno vissuto, nelle loro correlazioni con la pittura straniera, soprattutto quella degli impressionisti, insomma c'è stato un grande lavoro di studio, e le sue case, le sue abitazioni qui a Montecatini, piuttosto che gli studi di Milano e di Roma, sono stati sempre stracolmi di libri. Ecco, di qui l'idea appunto, mia sorella ed io siamo così, abbiamo finalizzato un disegno che era dei nostri genitori, che era quello appunto di lasciare un segno tangibile della loro presenza in questa comunità di Montecatini, che hanno tanto amato e che li ha visti nascere e poi vivere e quindi affermarsi professionalmente. Quindi noi siamo molto lieti che il mio babbo all'età di 89 anni, quindi abbia avuto bisogno chiaramente del nostro aiuto, abbia potuto compiere questo suo disegno e questo suo desiderio. Grazie. Grazie.